Como è tra le 32 province italiane che hanno passato la soglia dei 150 contagi ogni 100.000 abitanti. È quanto emerge dal nuovo monitoraggio della Fondazione Gimbe relativo all'ultima settimana di novembre. Sono quattro le province lombarde con un'incidenza superiore a 150. Como a quota 151, Varese 176, Cremona 164 e Monza e Brianza 157. La provincia peggiore in termini di incidenza è Trieste con 635 casi ogni 100.000 abitanti. L'incidenza settimanale dei casi è uno dei tre parametri insieme alla percentuale di posti letto occupati da pazienti covid in area medica e in terapia intensiva che determinano il passaggio di colore delle regioni.